Rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di Nickwingame Allora abbiamo recuperato la polvere da sparo e tutto quello che ci serviva Però purtroppo hanno rapito il tipo delir E l'hanno portato qui nell'azienda sperduta Quindi dobbiamo andare a liberarlo e ci dobbiamo scontrare contro Kestrel Quindi ci buttiamo subito ragazzi e vediamo un po' Dovremmo essere abbastanza pronti Era un bel edificio, pensai che doveva averci vissuto una persona ricca Prima che Kestrel se ne impossessasse Notiamo delle tracce lasciate dai vari stivali Cleve non era da solo È strano, questo posto è vuoto Ma c'è qualcosa che ci sta aspettando qui Ho paura che ci stiamo cacciando in una trappola Beh, almeno ne siamo consapevoli Esatto, si tratta di Cleve O Clive Gente, scommetto che ha assunto un mercenario e ha piazzato altre trappole per noi Stiamo attenti Non scontro la pari Abbiamo un appuntamento con l'ombra di Kestrel Gente, dobbiamo regolare i conti una volta per tutti Inizia a combattere Sarà tosta ragazzi Sarà molto molto tosta Vabbè, il gin è necessario Ok Io direi di lasciare così Magari A there Ne mettiamo Una scatoletta Vai vai Ho la vola a spacca We'll go room by room if we must Keep your eyes open Kestrel's here, somewhere I'm sure he prepared for our arrival Oh, someone's living big We came here to find Solomon Not for a sightseeing tour E si inizia. Però potevamo cercare un riparo migliore, siamo proprio in bella vista. E iniziamo a fare fura a questo. Ok. Ok. I'm waiting for us to sit Bacardi again at the saloon from a glass. Ok. Ok. Sarei tentato di fare una cosa, ma ci proviamo. Ok. 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 ok Ok, diciamo che lo spirito di Klarish ci ha aiutato, andiamo di pestarne qualcuno con lui prima che si... ...dissangui completamente. Ok... Ci tocca avanzare. Ok, riusciamo a seccarla, questo? Sarebbe bello, eh? Perfetto. Jin, avanza anche tu. Non sei convinto? Eh sì, lo so, però... Non voglio farti entrare qua dentro, se no ti spacco nel culo. Ehm... Bella cazzo di copertura, Flynn. Eh, che cos'è? Vabbè, dai, dai, fai fuori anche a questo. Si... Se gli diamo un colpetto è lui. E poi ce la diamo, ragazzi. Che cazzo ha fatto quel? Che bastardo! Mi sembra strano, eh. Beh sì, l'abbiamo colpito, ma... Dunca, non è morto. Cosa? Cosa? Allora, Derr, inizio a fare pure a questo. Vai da lui, e vai anche da lui. Adesso, Derr, vai qua. Chalice si può spostare, quindi la spostiamo da qui. Che fa? Eh, mi è mancato, stronzo. Oh, oh! Ahia! Che cazzo? Gemmello oscuro di Derr, oh merda. Che cazzo stanno facendo? La situazione si complica. Che cazzo stanno facendo? Che cazzo stanno facendo? Brava Flynn, però dobbiamo eliminare a questa. Nooo! Ma guardate dove siamo finiti. Gin, che puoi fare? Ti conviene dartela. Che cazzo stanno facendo? 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 E a po' che la zoa bamba... sta prendendo a fuoco ma vai a cagare cazzo pensiamo a fare furia e acquisti va no one out cheats me not this time no done and done clalish 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 vabbè la lasciamo qui clalish jean si deve spostare si deve assolutamente spostare non possiamo lasciarlo qua è pieno di gente ok 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 io vabbè mi sembrerà giusto mi sembrerà giusto no me vabbè 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 non vabbè 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 Sì, djinn. Let me return your shadow to you. Face him if you dare. Come here. Did you kill me? Where are you? My death? Yes. Cazzo, cazzo. Yes. I won't do this. Okay. Let's dance Do that again I dare you And I'll spill your guts To show you all the colors of the wind Help me No Oh, ce ne stanno due di Lazarus No, se mandiamo Dare qua È bello che è morto Ci potrei provare Ready I don't know I don't know Understand how you do what you do Flynn But it's fucking amazing Yeah Porca misera Ma Clalish Non l'ho back Eh Non gli facciamo un cazzo a lui Ma manco a lui Non l'ho back Non l'ho vabbè boh non lo so se muore questo sta sanguinando dove sta andando c'è sta fottuta clallish gemella e basta ebbè certo ce ne sono due tra l'altro parca troia a 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 e non è morto maledetto maledetto non ci credo guardate a 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 bella 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 a right avanza fin la clali finisce jean mangia ti la scatoletta right ah a 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 ok no facciamo una brutta fine se la colpiamo c'è la bombetta ma non conviene a 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 ok ce l'abbiamo fatta però manca la parte peggiore dobbiamo fare ancora ragazzi allora qua c'è l'armadietto quindi ci mandiamo der ok abbiamo preso gli appunti der va mangia la scatoletta anche tu jean jean avanza jean ecco l'ho messo peggio mi sa ready to roll a 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 purtroppo se non avanziamo questi stronzi non escono sconfiggi tutti i nemici eh cazzo a 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 niente ok brava a 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 saloon a 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 ok ok oh a a a filo eh ce l'abbiamo fatta ragazzi Libra Solomon dove sta forse forse Flynn è più vicina che fatica che fatica a 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 station buona fortuna prima che riuscissi a nascondere la scatola Bill ne prese sei e andò a versarsi un bicchiere allora ehm vattene allora sarei sul treno fantasma ok quindi è arrivato il momento dello scontro finale della resa dei conti ragazzi a quanto pare già ehm 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 ok ci siamo curati riparti vabbè ragazzi ci fermiamo qui dove dobbiamo andare di preciso ehm poi mi organizzo per conto mio cerco di fare un po' di provviste quello che posso comprare lo compro vediamo un attimo vediamo un attimo let's keep going ah sta qua ah ok 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 va bene ragazzi voi come sempre fatemi sapere la vostra lasciate like condividete iscrivetevi al canale se vi fa piacere e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ehm ehm ehm